Grazie. Dichiariamo aperta la seduta. Punto numero 1 all'ordine del giorno. Decadenza consigliere comunale e contestuale convalida del consigliere in surroga. Dopo una serie di assenze consecutive abbiamo scritto alla consigliera Colella Sabrina consegnando il tempo dei 20 giorni per produrre delle memorie o delle giustificazioni. Trascorso il termine dei 20 giorni al protocollo dell'ente non è pervenuto nulla per cui si è proceduto a contattare chi deve surrogare e chi deve subentrare. Ed è Francesco Negro, quindi il primo degli oneretti della stessa lista. Quindi adesso se non ci sono altri interventi potremmo passare alla votazione e dopodiché invitare il nuovo consigliere. Il problema della consigliera Sabrina Colella Diciamo della sua assenza sindaco è stato sollevato dal nostro gruppo perché ci meravigliavamo come mai era completamente assente. Abbiamo invitato lei, diciamo il segretario, a prendere i provvedimenti di regolamento. Ma questo non per andare contro o perseguire la consigliera Colella. Lei ci dice che alla lettera non ha risposto, lei l'ha telefonato, l'ha contattata. Perché le dico questo, mi scusi? Perché dopo la nomina della consigliera Colella Qui in questo consiglio si è vissuto un momento particolare Nel momento della fuoriuscita del gruppo Mani Comuni Facendo delle affermazioni, diciamo, delle apprezzamenti o delle valutazioni sul capogruppo, dottore Negro Pesanti e gravi Che al secondo consiglio, all'inizio, diciamo, del nostro mandato A me sinceramente sono sembrate troppo pesanti Però erano valutazioni sue E del capogruppo di Mani Comuni E poterle valutare, eccetera Poi dopo di che è venuta un'altra volta e è disparita Allora io mi sarei aspettato da parte sua che Qualche modo un incontro per capire A prescindere degli atti formali Quello che effettivamente fosse successo Perché è sempre una risorsa da recuperare È sempre una cittadina che è stata eletta Con un certo numero di voti E sempre una perdita Fermo restando il subentro di Francesco Al cui il nostro gruppo non ha nulla da fare Però, ecco, un intervento per noi Il nostro intervento non mirava Ad essere A spingere, a puntare il dito contro la colella Ma mirava principalmente Ad un'azione sua del segretario Di capire i motivi e le motivazioni per le quali Però questo atteggiamento sollevato allora Che poi non so se c'è stato o meno incontro Fra voi due per capire me lo dirà L'abbiamo riscontrato Perlomeno l'ho riscontrato anche Nei miei riguardi Quando ho ricevuto questa lettera Che lei la conosce bene Non so se i consiglieri la conoscono È sola da questo discorso Ma riguarda la vita amministrativa del nostro comune E allora io mi sarei aspettato anche in questa Una sua telefonata per dire Guarda, so che l'hai ricevuta quella lettera Perché lei lo sa che io l'ho ricevuta E ora la leggo Così se non lo sapete lo portiamo a conoscenza Mi sarei aspettato Che lei mi chiamasse a dire Guarda che tutto quello che dice quella lettera non è vero Non c'è nulla di vero Se vuoi A disposizione per chiarire E questo è un modo A mio modo di vedere e di affrontare A quale lettera mi riferisco? Alla lettera indirizzata a me È il responsabile dell'ufficio tecnico E la leggo Se signori Non so se l'avete Se la conoscete o meno Poi magari ne facciamo copia E la leghiamo al verbale Accordo di programma quadro Beni e attività culturali Delibera Cipe numero 9212 Determina a contrarre Per l'affidamento di servizi tecnici Nell'ambito del progetto per il restauro E valutazione del palazzo strafello CUP eccetera eccetera Con determinazione del responsabile Numero 548 Registro generale del 3011 2015 Per individuare i soggetti doni All'affidamento dei servizi tecnici Di direzione dei lavori Misure e contabilità Assistenza di cantiere Coordinamento della sicurezza In fase di esecuzione E certificato di regolare esecuzione Inerenti a lavori di restauro E valorizzazione del palazzo strafello In Morciano di Leuca Per la creazione di una casa di storie E di ospitalità Denominato documento Quello che io dico E non sono un pazzo Si legge già nelle carte Infatti Con determinazione numero 513 Del registro generale Del 511 2015 E' stato dato in carico Per la progettazione esecutiva Ad un certo ingegnere Giovanni Bleve Persona rispettabilissima Ma che è socio in affari Con l'ingegnere Morciano Già sindaco di Tigiano Il quale a sua volta Si è associato Con un certo architetto Antonio Mangia Che è già titolare Dell'incarico dell'ecocentro Per partecipare alla gara In oggetto Ed assicurarsi Le spalle forti Dell'amministrazione A questo punto Mi chiedo Se è proprio necessario Organizzare una farsa Chiamata gara Dove si sa già Chi sarà il vincitore Che con l'offerta metodologica Potrà giocarsela E aggiustarsela Come meglio crede Ovvero Il raggruppamento Dell'ingegnere Morciano Più architetto Mangia Più geometra Puntini puntini Fratello di chi Una serie di puntini puntini Eccetera eccetera Ma è proprio vero Che in Italia Vanno avanti Solo i forbetti Ma se questo responsabile Del procedimento Avesse avuto Le P Puntini puntini Non finiva prima Non finiva prima A quantificare Una parcella A quantificare Al di sotto Di 40.000 euro E procedere Ad un affidamento Diretto O forse Non si può fare Poiché Qualche regolamento Lo impedisce Oppure solo Per lavarsi La faccia Delle marachelle Organizzate Sempre nel rispetto Dell'impegno Per la richiesta Del finanziamento Che chi Porti i soldi Se li deve godere Tanto faccio presente Avvertendovi Che se continuate A fare Parzi Parzi Informerò Di fatti La procura E la guardia Di finanza Voglio dire Questo Io mi sarei aspettato Sindaco Non entriamo Nel merito Del problema Ma saputo Che lei Questa L'ha ricevuta Perché dovrebbe Stare registrata Il protocollo Del comune E dovendo difendere Il comune E io mi auguro Che lei lo difenda E non ho dubbi Che non lo faccia Mi sarei aspettato Una chiamata A dire Guarda Visto che sta in indirizzo Il responsabile Dell'ufficio tecnico E tu Poi qualcuno Mi spiegherà Perché mi ha tirato In ballo Ma non è questo Il problema Non è che Ci spaventa Mi sarei aspettato Una chiamata Per dire Guarda Che l'argomento Di cui tanto Stanno Così le cose Allora Con la Sabrina Colella Vedo lo stesso Comportamento Di questo E che mi preoccupa Vorrei sapere Qualcosa in merito Di uno e dell'altro Grazie Allora Le due vicende Sono chiaramente E in modo evidente Diverse Pardon Volevo dire Che questa lettera Non è anonima Porta la firma Perché Architetto Melcarne Luigi Sarà vero Non sarà vero Non ci interessa Volevo chiedere Poi consiglieri Se voi Lo sapevate Di questa lettera Mi farebbe Veramente piacere Se l'opposizione E gli altri consiglieri Ne erano informati Domando Io mi è sembrato Doveroso Portarla qui Perché lo devono sapere Sia i consiglieri Perché tutti abbiamo I ruoli diversi Responsabilità Nell'amministrazione Di questo Comune I ruoli E competenze Diverse Ma essere informati Su un fatto Di questo Penso Che sia Quelli di maggioranza Che quelli di minoranza Ma quantomeno Io che ero stato Chiamato in causa Mi sarei aspettato Da qualcuno Che mi fosse detto Guarda che Se vuoi accertare Poi puoi fare Quello che vuoi Ma le cose stanno così Invece Tabula rasa Grazie Ripeto Fermo restando Che le due situazioni Sono totalmente Completamente diverse Perché una Tiene una questione Amministrativa Che riguarda L'elezione Di una consigliere Che ha disertato Il consiglio Per tre volte consecutive Che come prete regolamento Abbiamo notificato La richiesta Di motivazioni È stata avvisata Telefonicamente Dal sottoscritto Ricontattata Telefonicamente Dal sottoscritto Incontrata Dal sottoscritto Non credo che io debba In qualche modo Rendere pubbliche queste cose Ma se me lo chiede Non ho nessuna difficoltà A dirglielo Il contenuto Della discussione Resta chiaramente Privato fra me e lei Per cui Probabilmente La consigliere Ha ritenuto opportuno Non presentare motivazioni Per cui noi abbiamo Preso atto Della mancanza Delle motivazioni E abbiamo proceduto Come da regolamento Niente di che E chiudiamo il tema Che stava all'ordine Il giorno Sull'altro tema Partiamo con Dire una cosa Poi la chiudiamo Perché Poi lì ci sono Gli organi competenti Che indagheranno La firma è falsa Mettiamo in chiaro Questo Quindi Chi ha firmato Il nome che c'è scritto Su quella lettera Ha comunicato Di non Saperne nulla Di quella lettera La firma È chiaramente falsa Perché Non è quella sua Perché Conosciamo la firma Di quel signore Per altri motivi Sulla questione Di notiziare tutti Lì c'è un procedimento In corso Sia per quanto riguarda La gara Sia per quanto riguarda Quella lettera lì Che presupponeva Un minimo di riservatezza Ma siccome Non c'è problema Siccome lei l'ha portata Come se fosse Chissà quale Problema di questa amministrazione Siccome non c'è niente Da nascondere Le dico semplicemente Che uno Che quella lettera Ha una firma falsa Due Che c'è Un procedimento in corso Per capire Che cosa Tendevano a Insinuare E uso un termine leggero Con quella lettera lì Poi ognuno Nelle opportune sedi Saprà Come difendersi E come no Come comunicare La propria situazione Anche a tutela Soprattutto Dell'ente Quindi quando lei mi chiede Se abbiamo difficoltà O se abbiamo A cuore La questione del comune Le dico semplicemente Di sì E se non è arrivata In modo formale Perché quella Come nota Non è neanche indirizzata A me Io l'ho trovata Dal protocollo Perché io controllo Il protocollo E l'ho intercettata E quindi l'ho letta Detto questo Non credo che ci sia Niente di scandaloso Niente di Penalmente rilevante O di Vediamo che cosa Ha da dire quella lettera E che cosa farà L'ufficio poi Fattonee Che tanto per essere chiaro Che quel puntini puntini Quando parla di Geometra puntini puntini E il fratello Del presidente Della CUC Motivo per cui La procedura È stata interrotta C'è agli atti Una lettera Del presidente Che dice Siccome ho trovato Mio fratello Tra quelli Possibilmente candidabili Io divento Automaticamente incompatibile Per cui hanno sospeso Il procedimento E da dicembre Il procedimento È fermo Quindi Quella roba lì Vedremo che cosa Darà a seguito Dopodiché Se Credo che sia opportuno Passare al nodo Dell'ordine del giorno E ritornare Sulla letta via Che è quella di Nominare Il nuovo subentrante Non crede che sia Il problema Veda il sindaco Posso? Sì Solo una breve Solo una breve Brevisimo Il problema Non è Se giuri La rilevanza penale Delle affermazioni Perché la rilevanza penale Qui Nessuno è competente È competente Chi di dovere D'altronde Che il dubbio Sulla Firma Non c'è bisogno Di fare analisi Calligrafiche È impensabile Che un responsabile Di un ufficio Tecnico Scriva Ad un altro Ufficio Tecnico Di un comune Una lettera Del genere Sta di fatto Che io Non me lo sono posto Nemmeno Di andarlo a chiedere Perché ero Ma il problema È talmente grave Non per questo Sia nella gestione Democratica Della cosa pubblica Perché questa Doveva essere Comunque notificata A tutti i consiglieri A chi? Ai consiglieri Perché no? E per quale motivo? Quindi tutte le lettere Che arrivano Ad un consigliere Ma ci sono E quantomeno Come tutte le lettere Che arrivano Sono fatti gravi Accuse specifiche All'ufficio In cui Ma lei Quando prima Era all'opposizione Ha dimenticato Le lettere E lei Non mi dire Che l'ha presa E ne ha fatto Un campo di battaglia Per la lettera Contro l'ufficio Tecnico A firma Dei tecnici Di Morciano Non l'ha presa Certo a conoscenza Il contenuto Di quella lettera Dopo la registrazione In protocollo Scusa Allora Se dobbiamo fare Una discussione Io glielo consenso Voglio dire L'ufficio Va tutelato Va tutelato Ed è quello Che stiamo facendo Ed è quello Che stiamo facendo Dopodiché Ricordo A tutti i consiglieri Che il protocollo È pubblico Quindi tutti i giorni Potete venire C'è una postazione Per voi A fianco a quella Della segreteria Dove potete controllare Con utenza Il protocollo Non c'è niente da nascondere Io ho appreso Il contenuto Di quella lettera Come dice lei Tanto per fare un inciso Perché noi Mensilmente Ogni 15 giorni Chiedevamo L'estrazione del protocollo Dopodiché controllavamo Cosa c'era E facevamo una richiesta Puntuale Non dicevamo Tutti i protocolli Del mese di gennaio Dicevamo Il numero 1 2 3 4 5 7 Perché il 6 Non mi interessa Per non sovraccaricare L'ufficio Era puntuale Quella abbiamo visto Credo che sia davvero Sufficiente E possiamo passare Alla votazione Della surroga Allora Quindi Votiamo per la decadenza Quindi chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Per l'immediata esecutività Chi è favorevole L'immediata esecutività Chi si astiene Chi è contrario Perfetto A questo punto Possiamo invitare Il consigliere Francesco Nego Ad accomodarsi Al tavolo Dei consiglieri Diamo il benvenuto Vuole presentarsi Subito Possiamo procedere Perfetto Allora Punto numero 2 All'ordine del giorno Approvazione Dei verbali Estituta precedente Del 25 febbraio 2016 Se non ci sono Considerazioni Si danno per lette E per approvati Prego Bene Allora Passiamo a votazione Chi è favorevole Lui è astenuto Esatto perché non c'è Chi si astiene Contrario Contrario Punto numero 3 All'ordine del giorno Approvazione Del regolamento Generale Delle entrate Tributarie Allora Questo è un Regolamento Che avevamo Portato in commissione Poi la commissione Come risulta Dalle verbale È andata a deserto Nel senso che c'erano Solo due Consiglieri Non il presidente Ciullo Quindi non è stato Raggiunto il numero Legale tale per Effettuare la commissione Quindi li abbiamo Portati direttamente In consiglio comunale Si tratta di un Lavoro di aggiornamento Che riprende Un vecchio Regolamento Del 2002 Approvato nel 2002 E efficace Del primo gennaio 2003 Che deve essere Doveva essere Per forza di cosa Aggiornato alle Vigenti disposizioni Dopo quello che è intervenuto Dal 2003 in poi È un lavoro Che ha svolto In larga parte O principale Fondamentalmente Sandrino Quindi cedo direttamente A lui la parola Per la presentazione Buonasera Quindi il presente Regolamento Disciplina Le entrate Comunali Tributarie In osservanza I principi Di efficienza Equità Economicità E trasparenza Le norme Inserite In questo regolamento Sono finalizzate A stabilire un corretto Rapporto di collaborazione Con il contribuente Il regolamento Generale Sulle entrate Tributarie È stato Riscritto In virtù Delle modifiche Intervenute Nel corso Degli anni Al testo unico Degli enti Locali E del decreto Legge 10 ottobre 2012 Nr. 174 Convertito Con la legge 7 dicembre 2012 Nr. 213 Che Ha introdotto Modifiche E modalità Di controllo Amministrativo Economico Contabile E sugli equilibri Di bilancio Cuore Inoltre Un passo importante È stato fatto Nel 2015 Con l'approvazione Dei decreti Attuativi Della delega Fiscale Di fatto La legge Porta avanti I principi Importanti Che rispondono Ad una gestione Orientata Verso Le garanzie Difensive Del contribuente E la limitazione Del contenzioso E la facilitazione Degli attempimenti Dei contribuenti Il decreto Legislativo 156 Del 2015 Ha poi Contiene Un'ampia Riforma Del contenzioso Tributario Ed estende Al mondo Dei tributi Locali L'istituto Dell'interpello Della mediazione Oltre Ad aver Introdotto Delle modifiche Al contenzioso Tributario Che Il nostro Comune In linea Con la razio Che sottende Alle disposizioni Normative Richiamate Intende Introdurre Misure Maggiormente Favorevoli Per i contribuenti In caso Di dilazioni Degli importi Dovuti In caso Di dilazioni Di importi Dovuti Come entrate Tributarie Ed extratributarie Pertanto Al fine Di aderire E dare Attuazione Alle sopravvenute Disposizioni Legislative L'amministrazione Ha ritenuto Doveroso Aggiornare Il regolamento Delle entrate Tributarie Grazie L'argomento È particolarmente Tecnico Ma se ci sono Considerazioni Siamo qui Diciamo che La volontà Dell'ente È stata quella Di aggiornare Un documento Che ormai Aveva 14 anni Quindi era Non più al passo Con i tempi E con tutto quello Che Sandrino Poi ha dettagliato Nel suo intervento Una serie di strumenti Che sono La realizzazione La domanda Quali sono le agevolazioni Introdotte Diciamo Come ho detto Primo Queste rispondono Sono delle garanzie A difesa Del contribuente Quali per esempio Il ravvedimento Operoso L'interpello La mediazione L'accertamento Con adesione Tutti questi strumenti Deflattivi Che tendono A dare una mano Al contribuente Nell'eventuale C'è qualche problema Che può sorgere Con l'ente In termini pratici In termini pratici Che ti posso dire Non sono tecniche No Cioè Se tu per esempio Hai un problema Con l'ente Hai un problema Cioè Hai dei debiti No Allora L'ente Ti chiama Ti fa l'accertamento E roba vale Poi su quel tipo Di accertamento Tu potresti Aderire O meno Allora Se aderisci Hai delle agevolazioni Se non aderisci È logico Paghi la sanzione Per intero Per esempio Se tu invece aderisci A quel tipo Di accertamento Hai la sanzione Ridotta Di un terzo In più Ci sta anche Un altro discorso Molto importante Se si dà La possibilità Ai contribuenti Quelli naturalmente Che versano In condizioni Di disagio Economico Finanziario Di far pagare Le imposte Dovute Con una dilazione A medio e lungo termine Cosa che prima Non era possibile Si prevedono direzioni Fino a 72 mesi Se non ricordo male Massimo Si arriva a 72 mesi Massimo Per importi Qua praticamente Questo illustra Tutti gli strumenti Defrattivi Che ci possono essere Aggiornati Diciamo Con il decreto Legislativo 215 Ok Grazie Altri interventi Del problema Per una ragione Semplicissima Perché per impegni Non ho potuto Partecipare Alla riunione Altrimenti Sare venuto Certo Che poi È stata fatta Un giorno Due Prima Di un paio Di giorni Fa Certo io Anche in questo Approvare L'approvate Noi ci asterremo Il minimo Che possiamo Fare Un regolamento Sulle entrate Tributarie In così Breve tempo Senza dare il tempo Anche Dice Io ve l'ho mandato E io lo so Che questo Mi è pervenuto Si corre Sempre A un giorno Prima Approviamo Un regolamento Che riguarda L'entrata Tributare Della comunità Di Morciano Io penso Che Meriterebbe Un approfondimento Maggiore Tenga presente Che io Non l'ho letto Per mancanza Di tempo Quel giorno Non sono potuto Venire Quindi Non voglio attribuire Colpe Né alla Anzi Alla riunione E via dicendo Meriterebbe Quanto meno Io ritengo Da parte Di tutti Siccome Un documento Importante Quanto meno Un Una riflessione Maggiore Un tempo Maggiore A tutti i consiglieri Di poterlo Leggere Analizzare E portare Eventualmente Degli emendamenti Non solo Quelli Che sono stati Apportati Diciamo Che L'ho visti Ma questo Non è stato Immendato Ma questo Andrebbe Quanto meno Letto E approfondito Comunque Siccome La responsabilità Me la prendo Perché per impegni Non sono potuto Ma io ritengo Che approvarlo Senza nemmeno Leggerlo E indicare Leggere Approfondire L'articolo Indica Non finire Ci asteniamo Dall'approvazione No Allora Questa Io voglio fare Un'ulteriore Osservazione Leggendo Da questo Terzo punto Dell'ordine In poi Fino al sesto Si parla di Regolamenti E approvazioni Piano economico Finanziare E via dicendo Io mi aspettavo Sindaco Da parte sua All'inizio Nell'introduzione Che ci dicesse Il motivo Per il quale Questo consiglio Stava definito Urgente Perché mi scusi Guardando questi punti Dell'ordine del giorno Che ho appena Menzionato Visto l'importanza Allora Crediamo Che ci sia Qualche scadenza E se c'è Qualche scadenza E se c'è Qualche scadenza Ma quantomeno Diciamo Noi Purtroppo Non siamo stati messi Nelle condizioni Di studiare Appieno Quelli che sono stati Quelli che sono gli argomenti Che oggi Tratteremo Io non Ritengo Veramente Poco serio La convocazione Di un consiglio comunale Un giorno e mezzo Prima Lo ritengo Poco serio Perché Significa Mettere I consiglieri Comunali Noi Diciamo Di minoranza Nelle condizioni Di non essere Documentati Come dovremmo Esserlo Quindi Non si tratta Sandrino Diciamo Di astenerci Perché non condividiamo Il regolamento generale L'entrata di tributà Ci mancherebbe altro Però non è serio Non è serio Che un giorno e mezzo Prima Ci venga notificato Un consiglio comunale Urgente E che il sindaco All'inizio Lo stesso consiglio Non ci dica nemmeno Perché è urgente Altri interventi E mia responsabilità È che non ho tempo Non riesco Però effettivamente Quando ci sono queste cose Io non capisco Perché non riusciamo A discutere Gli argomenti importanti Che riguardano il comune Tutti insieme Veramente non lo capisco Perché è vero Che qua c'è maggioranza C'è tutte queste cose qua Ma qua siamo una comunità Di tremila anime Possibile che non riusciamo A poter parlare Di queste cose Avere il tempo Di documentarci Parlare Dell'Atari Cioè delle cose Che poi riguardano la comunità Dobbiamo ancora rimanere Con questo vecchio schema Della politica Che io sono La maggioranza Per cui Ma qua veramente Stiamo Eppure stiamo vedendo Che ci stanno facendo Costa logica Dei partiti Noi stiamo vedendo Che cosa ci stanno facendo A livello nazionale Ci dovremmo Svincolare completamente Da sta cosa qua E cercare di ragionare In un modo Completamente diverso Questo è che meraviglia Dobbiamo riunirci Dobbiamo fare Dobbiamo fare A stanze segrete Della maggioranza Per decidere Queste cose Quando non c'è nessuna Veramente Non c'è nessuna Difficoltà E qui Siamo persone Associazioni Non dobbiamo fare Non so come Devo dirlo Io l'ho sempre detto Questo in campagna elettorale Sono coerente Con quello che dico Per questo le persone Scappano da me Perché vorrebbero Che io facessi La lotta A chissà che cosa Scappano Perché non sono d'accordo Sulla cosa più semplice Ma c'è Antonio Renzo Non può dare un contributo Che è una persona esperta Antonio Pizzileo Io sono l'ultimo Il meno esperto Ma almeno Mettiamoci a ragionare E si trovano le soluzioni Sono sicuro Che si trovano le soluzioni Migliori In tutti E siamo pure più protetti Non arrivano Ste lettere strane Ste cose Che non hanno senso Non hanno No Potremmo essere Molto più Semplificati Nel lavoro In tutti i settori In tutti i campi E potremmo Purtroppo A malincore Devo ancora notare Che una comunità Come Morciano Sindaco È ancora molto divisa E schierata Infatti Voi Io Chiunque Fa un'iniziativa Non viene quasi nessuno O poca gente Anche quando c'è un personaggio Questo è sintomatico Del fatto Che la gente È stanca Non ne vuole sapere Della politica Non vuole sapere Della partecipazione Perché vuole un modo Completamente diverso Magari Forse vuole un modo diverso Allora Andiamo con ordine Così Partiamo dalla poca serietà Così mettiamo in chiaro le cose La pubblica amministrazione Vive anche di scadenze Se qualcuno di voi Si fosse informato Su che cosa sta succedendo Oggi Nei vari consigli comunali Scoprirebbe Che oggi ci sono Circa 70 comuni Su 97 Perfetto Lui ne ha fatti tre Perché c'è una scadenza Che per Dopo tanti anni Dopo tanti anni E io dico Per fortuna Non è stata prorogata Quindi 30 aprile Era prevista E 30 aprile È rimasta Trattandosi di Materia Legata alla contabilità E ai tributi Queste Tipo di iniziative Quali il regolamento Che stiamo approvando adesso E quelli successivi Devono essere Tassativamente Adottati Entro questa data Per cui Noi Li abbiamo portati Perché se lo portiamo oggi Da quest'anno I cittadini possono soffrire Di questi regolamenti Se decidiamo Che li vogliamo rinviare Perché li volete discutere meglio Io sono il primo a dire che Io Gli voto contro Però lo possiamo fare Vuol dire che Questo tipo di iniziative E di servizi E di opportunità Che diamo ai cittadini Gliele diamo Dal primo Gennaio 2017 Tanto potremmo anche ragionare Che hanno aspettato 16 anni Aspettano 17 E fa niente Per me non c'è problema Questo per i consiglieri Che fanno parte Del Consiglio Comunale Per quelli che stanno Invece nella Commissione Il regolamento I regolamenti E gli emendamenti Sono stati inviati Via mail Il 21 di aprile Se non ricordo male Adesso vado a memoria Ma più o meno giù di lì Siamo al 30 di aprile Credo Che se ci fosse stata La possibilità O la volontà Di leggerli E di chiedere informazioni Io non mi nascondo Nel dire Che io questo regolamento Faccio fatica A emendarlo Perché faccio fatica A capirlo Perché è talmente tecnico Che mi sono affidato A una persona esperta Che ho la fortuna Di avere nel gruppo Che l'ha predisposto Dopodiché Se lui mi dice Guarda questa è la Bibbia È condiviso con l'ufficio Quindi anche l'ufficio Ha messo il suo benestare Per me va bene Dopodiché Ripeto Se qualcuno avanza la proposta Di rinviarlo A domani mattina Perché basta provarlo A domani mattina Questo entra in vigore Dal primo gennaio 2017 Non è È un dato di fatto È una scadenza Imposta dalla legge Per cui Decidiamo Io non ho nessun problema A rinviarlo All'anno prossimo A me personalmente Non cambia niente Mi dispiace Che probabilmente Qualche cittadino Che su questo regolamento Conta Dovrà aspettare Un altro anno Punto Quindi La scadenza È legata Dall'urgenza L'urgenza È legata Dalla scadenza Di legge Il 30 aprile Vanno approvati Questi tipi di regolamenti Che incidono Sul bilancio Per essere chiari Questa è la scadenza Non c'è Vede sindaco Lei Lei non risponde Però pienamente Alle osservazioni Che le vengono fatte Nessuno Sta dicendo Che non dobbiamo Approvarlo Qui si sta dicendo Una cosa Avete chiesto Allora mi scusi Allora mi scusi No stiamo portando All'ordine del giorno Degli argomenti importanti Che scadono Oggi stesso Allora Fermo restando Che non mi interessa Che in altri comuni Altri comuni Altri comuni Stanno Facendo altri Consili comunali Per lo stesso motivo Io quello che sto dicendo È un'altra cosa Il 30 aprile Oggi Data ultima Di scadenza Da quanto tempo Si sa Allora È possibile Che noi Come comune Dovevamo aspettare L'ultimo giorno Per l'approvazione Questo sto dicendo Perché non ci abbiamo Pensato prima Altrimenti Rischiamo di fare La fine Che O quelle Discussioni Che si sono avute Anche a salvi In occasione Dell'Unione Delle comuni Quando si parla Dell'accorpamento Si parla Dell'accorpamento Le funzioni Quando ormai Si devono accorpare Perché c'è Perché c'è L'obbligo Per legge E le cose così Non possono funzionare bene Io quello che dico Ammesso che oggi È la scadenza Perché non ci abbiamo Pensato prima Perché dobbiamo Arrivare Ad approvare Dei regolamenti Senza studiarli Per bene Senza dare poi Il nostro Concreto supporto Allora io Questa la vedo Come una mancanza Di serietà Il mio passaggio È questo È una mancanza Di serietà Notificarla Un giorno e mezzo Prima E portarla Un giorno e mezzo Dopo Dicendo che scade Siccome facciamo Riferimento ai regolamenti Il regolamento Dice che la convocazione Può essere anche urgente E prova nel fatto Che questo strumento L'abbiamo utilizzato Forse un'altra volta Appena eletti Anche lì ritrovatoci A ridosso della scadenza Dallo stesso motivo Se non ricordo male Perché allora Era il 30 di luglio Il 30 settembre Non mi ricordo Quali fossero le due La serietà Si vede che noi Non utilizziamo mai Questo strumento Mai Solo in questo caso Specifico È successo Poi ripeto Ripeto Se la volontà Del consiglio È quella di rinviare Questi due punti Lo possiamo mettere ai voti Io non ho Se mi prometto Un emendio di questo tipo Lo proponiamo Se invece mi dite Votatelo Non abbiamo potuto dare il contributo Questo non è Lettera immutabile Questo vuol dire Che lo approviamo E poi Come stiamo emendando Il regolamento Tari Da domani Avremo il tempo Per emendarlo Vuol dire che Vuol dire che gli emendamenti Saranno esecutivi Dal primo di gennaio Lì potremo dare Potere dare il contributo Questo è un dato di fatto Dopodiché Ma vede il sindaco Lei mette il consiglio Sotto ricatto No Sotto ricatto Lei sta ricattando Il voto del consiglio Quando si poteva discutere Non dico Incontrarsi Per analizzare Sandrino Ci avrebbe visto Che ha lavorato Poteva anche illustrare E accettare Qualche piccolo contributo Che poi poteva essere Anche una cavolata Ad essere gestinato Però questo Si poteva fare Lei lo pone sempre Lo rinviamo Per attribuire Poi La responsabilità Ad altri E che questo Si poteva benissimo Affrontare Un mese fa No E da un mese Che ci lavoriamo È diverso Poi Se vogliamo ragionare Questi regolamenti Non nascono Dall'oggi al domani Ci vuole Un lavoro Un lavoro Non di poco conto Che è arrivato A culminarsi Nella fase Della commissione Che è andata deserta E non permetto A nessuno Di dire Che metto sotto ricatto Il consiglio Perché io ho detto Ho appena detto Che se siamo d'accordo Con la vostra dichiarazione Di astensione E quella del gruppo Mani Comuni Lo possiamo votare Dopodiché vi ho anche detto Questo non è lettera immutabile Da domani mattina Che avete Che abbiamo più tempo Lo possiamo emendare Chiaramente ho precisato Che gli emendamenti Che applicheremo Su questo regolamento Il 2 di maggio Per dare un giorno Varranno dal 1 gennaio 2017 Non dal 2016 Siccome secondo me Questo è uno strumento Importante Non per Luca Durante O per il consiglio Per la collettività Credo che sia opportuno A provarlo Dopodiché ognuno Decida liberamente Io non ho ricatto Nessuno Ne accetto Situazioni di serietà Qui c'è un lavoro Fatto di mesi E siamo arrivati Purtroppo Ma ce l'abbiamo fatta Perché potevamo fare finta Di non arrivarci Non lo portavamo E andavamo De plano Al 2017 Non abbiamo ritenuto Opportuno Invece farlo E portarlo in consiglio comunale Così esattamente Come abbiamo fatto Con gli altri Quindi secondo me Questa è la situazione Dopodiché se c'è la vuole Di dare un contributo Qui nessuno lo rifiuta Ci mancherebbe altro Però Quello è uno strumento Secondo me Importante per la collettività Da domani mattina Che questo sarà pubblico Chi ha la commissione Ce l'ha già Ai consiglieri Lo possiamo mandare Seduto a stante Potete lavorare Con Sandrino E con chiunque altro possa Emendarlo Per migliorarlo Per carità di Dio Però Non posso intervenire Scusate Cioè secondo me Questo tipo di regolamento Non c'è da discutere E semplicemente È stato aggiornato In riferimento a quello Che c'era precedente Che era ormai obsoleto E vecchio È stato aggiornato Tranquillamente Con le nuove normative Messe in atto Dalla norma Dove C'è stato messo Aggiunto Agli istituti deflattivi Cioè Ravvedimento peroso Accertamento con adesione Eccetera Sono stati inseriti Ulteriori Norme Tipo L'interpello E la mediazione Che prima non c'era È stato più che altro Aggiornato In base alle nuove disposizioni Non c'è da discutere Quando dire Beh Mettiamo questa clausa Facciamo questo Non esiste No no Non c'è questo per dire Il tipo di regolamento Fatto Secondo me Non è da discutere E solamente In quanto Sono norme Tutte finalizzate A un corretto rapporto Tra L'ente E il contribuente E di dare Possibilmente Una mano Anche Nelle Delazioni Dei pagamenti Che il contribuente Ha Dei debiti Verso L'ente stesso Insomma Non c'è da discutere Ecco Solamente Aggiornato È stato In confronto a quello Che c'era prima Se ci sono altri interventi Altrimenti Passerei a votazione Allora Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Ah Il voto Infatti pure io Ha astenuto Ok Perfetto Non mi mancava No 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 Dalla seconda in poi Puoi votare Fai parte Formalmente Ormai Del Consiglio Comunale Per l'immediato Eseguibilità Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Punto numero 4 All'ordine del giorno Approvazione del regolamento Di contabilità Armonizzata Possiamo fare Velocemente Un parallelo Tra quello che ci siamo detti Prima sul regolamento Per le entrate tributarie Con quello che Il regolamento Di contabilità Che prima si chiamava Di contabilità generale Adesso è di contabilità Armonizzata Parliamo di uno strumento Che parte Dalla versione esistente Che risale Al 97 Quindi In questo comune Ad oggi È vigente Un regolamento Di contabilità Generale Espresso In lire E abbiamo In questo caso L'ufficio Ha predisposto Un regolamento Quindi un aggiornamento Alle nuove disposizioni In particolar modo Alla contabilità Armonizzata Ecco perché si chiama così Che è diventata Entrata a regime Dal primo gennaio 2016 Che prevede Tutta una serie Di strumenti Quindi oltre a regolamentare I tempi Per esempio Per il bilancio Di previsione Il bilancio Di rendiconto I depositi Annuovere al suo interno Il DUP Quindi il documento Unico programmatico Questo praticamente Ha All'interno Recepisce All'interno Tutta una serie Di cambi Normativi Intervenuti Dal 97 Al 2016 Anche in questo caso Ripeto È un regolamento Che è stato Portato in commissione Che non è stato Discusso All'interno Che è stato redatto Dall'ufficio Quindi direttamente Dalla responsabile Dell'ufficio finanziario Per cui Se ci sono altre Considerazioni Anche in questo caso Vi dico Ci troviamo di fronte Ad un regolamento Prettamente tecnico Dopodiché Ogni considerazione Può essere ritenuta Valida Se ci sono altri Interventi Ok A questo punto Se non ci sono interventi Passerei a votazione Chi è favorevole Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Per l'immediata Per l'immediata eseguibilità Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Punto numero 5 All'ordine del giorno Regolamento Per l'applicazione Della tassa Sui rifiuti Tari Modifiche Allora Avevamo Preparato Una serie di Emendamenti Da portare in commissione Per la discussione A questo punto Abbiamo ritenuto opportuno Portarli Direttamente in consiglio E sottoporli All'attenzione del consiglio Mandandoli a votazione In modo separato Facciamo un cappello iniziale Per capire Che cosa abbiamo Mirato Con questi emendamenti L'anno scorso Per il comune di Morciano di Leo Che è stato il primo anno Reale di applicazione Della Tari Per cui A valle dell'applicazione Abbiamo raccolto Una serie di feedback Da parte dell'utenza Per cui Abbiamo ritenuto opportuno Intervenire su alcuni articoli Per consentire La gestione corretta Di alcune situazioni Tanto per citarne una È quella che riguarda Le case Che sono sequestrate Per cui Uno non avendo La disponibilità Di quell'immobile Non deve Non dovrebbe pagare La Tari Però se non è previsto Il regolamento Questa regola non si applica Per cui abbiamo previsto Che chi ha Per qualche motivo Una casa sequestrata Non avendone La disponibilità Quindi che non possa Utilizzarla Perché poi Il concetto della Tari È sempre Nella potenziale Produzione di rifiuti Che venga esonerato Oppure nel calcolo Del È sospesa Sì sì è chiaro No no Sospesa Oppure nel calcolo Delle utenze domestiche Dove ci sono Delle persone O dei ragazzi Che o per motivi Di studio O per motivi Di lavoro O perché magari Nelle forze armate Non risiedono Fisicamente In quella casa Pur avendo La residenza A Morciano Di Reuca Si dimostrano Nel caso dello studente Con l'opposita documentazione Nel caso del lavoratore Con il contratto Nel caso della forza Dell'ordine Perché pare ci siano Delle disposizioni Di norma Che prevedano Che non possano Spostare la residenza Ma di fatto Hanno una residenza Presso le loro sedi Le loro caserme O i loro alloggi E questo per quanto riguarda La composizione Dei nuclei familiari Una modifica Dopo entriamo Nel dettaglio Che riguarda I BNB In modo tale Che da essere al passo Con quelle che sono Le ultime disposizioni Le ultime sentenze Per cui riconoscere In base alla regge regionale I BNB A forma imprenditoriale Come utenza non domestica Mentre riconoscere I BNB A forma A conduzione familiare Come utenza domestica Con il numero Dei Degli occupanti Risalenti Dalla Dall'anagrafe Nel periodo in cui Non esercitano L'attività E applicando Il sei O più componenti Quando invece hanno Il periodo di apertura Mi pare che siano Nuove il limite Per quanto riguarda Gli occupanti Di un BNB familiare Quindi abbiamo applicato Quello lì Poi Un emendamento Per aggiornare Un riferimento Che c'era nel regolamento Dell'anno scorso Di una scadenza Entro la quale Presentare Eventuali dichiarazioni L'anno scorso L'anno scorso Avendolo approvato A luglio Era il 20 agosto Quest'anno Approvandolo Adesso Lo mettiamo Entro il 20 di giugno In modo da consentire 50 giorni di tempo Alle persone Per fare le dichiarazioni Specie In merito Alle nuove Riduzioni Che abbiamo previsto E poi La parte più Impattante A livello Di Tari È quella che Uniformandoci Anche A quello che avviene In altri comuni Il riconoscere La possibilità A delle utenze Non domestiche Con licenza annuale Di autodichiararsi Stagionali Perché noi abbiamo Tutta una serie di utenze Che insistono A Torre Vado Che sappiamo bene Che in realtà Pur avendo licenza annuale Lavorano 4, 5, 6 mesi all'anno Allora Lì si va incontro Si cerca di Fotografare La reale situazione Con In questo caso Con l'ottavo emendamento Gli ultimi due Servono invece A Modificare Il regolamento In modo tale Da non doverlo Emendare Ogni anno Nel regolamento Del 2015 C'era scritto Che per I pagamenti previsti Nel 2015 Erano da settembre A dicembre 2015 Quest'anno Vanno da luglio A ottobre Per evitare Ogni anno Di dover emendare Abbiamo scritto Che Il tributo Dario riscosso Da parte del comune Con scadenze In modalità Fissate dal consiglio Comunale In modo tale Che come viene Quest'anno Lo comunichiamo All'interno Della delibera Di consiglio E quelle diventano Sia le scadenze Sia le modalità Di pagamento Questo è un cappello Generale Dopodiché Sarebbe opportuno Di affrontarli Uno alla volta Perché vanno portati Ai voti Uno alla volta Quindi Primo emendamento Li leggo io Perché li ho presentati Io Li ho protocollati Io come presidente Del consiglio Allora Primo emendamento Articolo 6 Del regolamento Tari Aggiungere il seguente Comma 5 In caso di occupazione O detenzione Di immobili Costruiti abusivamente Indipendentemente Dal fatto che Per essi Sia stata presentata O meno Istanza In sanatoria Edilizia Sono soggetti Al tributo Così vediamo dove siamo L'articolo 6 E i soggetti passivi Quindi la definizione Di chi dovrebbe Pagarla Posso? Prego Un intervento Di carattere generale Su questi Emendamenti Si è intervenuto Per mettere Di correttivi Situazioni Che erano Veramente pesanti E gravi Ma Avrei da dire Qualcosa Anche sul discorso Della cassa Sequestrata Questa e quell'altro La cassa Sequestrata Non è che viene Sequestrata Ma non è che Voglio dire Facciamola pagare Quella è già Stata Sequestrata Cioè Poi viene Assegnata Ci sarà una persona Che la disponibilità In genere Vengono fatti Il sequestro È assegnato Al proprietario Diciamo Il Il custode Che ha l'obbligo Di entrare Vigilare Eccetera Non entriamo Nel merito Tecnico Di questo Da un'analisi Di questi Emendamenti E lo dico In termini Generale Perché anche Quella di B&B Era gravissima Come stava Fatta prima Perché già A livello Regionale Prevedevano Una distinzione Dei due Ma analizzando In termini Generali Si è voluto Diciamo Intervenire Per correggere Le varie Situazioni Che sono Veramente Anomale Ma finché Io ritengo Che anche Intervenendo In questo Modo È un falso Problema Perché Finché Noi Teniamo Il regolamento Che abbiamo Approvato Anzi Che voi Avete approvato Nel quale Si afferma Che Il costo Della Spazzatura Dipende E sta All'ordine Del giorno Successivo Il prossimo Punto È l'Atari Tassa Su rifiuti Anno 2016 Approvazione Piano Economico E Finanziario Che è un piano Economico E finanziario Fatto Dall'azienda Appaltatrice Ma di che Parliamo Ma di che Parliamo Noi Abbiamo la libertà Fermo Restando I diritti Dell'azienda Di stabilire I soldi Che gli servono E se decide Di comprarsi In aereo Per andare A passeggio Lo distribuisce Tra i comuni Perché questo Dice Il nostro Regolamento Che voi Avete approvato Contro il nostro Parere Stiamo Dividendo Quell'importo Che ci impone La ditta Sulle varie Fasce Noi dobbiamo Intervenire Sul piano Economico Di gestione Se vogliamo Ridurre Altrimenti Noi La differenziata Tutto quello Che vogliamo Mettiamo la comunità A lavorare Per aumentare I profitti Dell'azienda E i cittadini Di Morciano Pagano Poi Abbiamo visto Sti due giorni La macchina Del lavastrade Girare per Morciano Per la verità Io vigilo Sto in giro Per Morciano L'abbiamo visto oggi Quella non è che lava Le strade di Morciano O meglio Prova a lavarle Noi avremmo voluto Vederla tutto l'anno Io l'ho detto Nel consiglio Secondo le date Prescritte Ma quando Ma si è visto Quella andava in giro Non per lavare Le strade di Morciano Ma lavare Le tasche Dei contribuenti Di Morciano Perché il regolamento Che abbiamo Non dà nessuno spazio Approviamo Il piano Finanziario Dell'azienda Non nostro Ma di che parliamo Approviamo questo Dice Ma non è una situazione Questa È una situazione Di tutti i comuni Questa è la situazione Sandrino Scusate Il regolamento È un discorso Il piano economico Sono due cose separate Ma noi dovremmo entrare Nella valutazione Delle spese Dell'anno scorso Di come sono state spese E dire i correttivi Per ridurre i costi Ma finché Sottoponiamo L'approvazione Al piano finanziario Dell'azienda Spara 100 Diciamo che Ne diamo 80 Ma intanto C'eravamo posti D'accordo Per 50 Ci prendiamo in giro Che facciamo Riduciamo Le lamentere Ma il vero problema È che noi dovremmo entrare Nei costi Nell'esame Dei costi Della ditta E non E questo Alla base Sandrino È meraviglio di te Che ti stimo tantissimo Non hai premuto Abbastanza Per intervenire Consigliere Renzo In questo punto All'ordine del giorno Discutiamo di come Emendare il regolamento Quindi cerchiamo No Ho capito Ma c'è un punto All'ordine del giorno Specifico Per questo tipo di situazioni Quindi io vi chiedo Siccome ne abbiamo 13 da mettere al voto Di procedere in modo Ordinato Restando Attinenti All'elenco E a quello che c'è scritto Emendamento per emendamento Letto il primo Lo dobbiamo sottoporre A votazione Se non ci sono Altri interventi Nel merito Del primo emendamento E così faremo con gli altri Ok Allora Procediamo Allora Mettiamo ai voti L'emendamento Numero 1 E di che sulla delibera C'è scritto C'è come lo spazio fatto Esatto Allora Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Emendamento Numero 2 Al comma 1 Articolo 7 Del regolamento Tari Aggiungere La seguente Lettera L Le unità immobiliari Oggetto di provvedimenti Di sequestro E confisca A esenza del comma 3 bis Dell'articolo 51 Del regolamento Legislativo 6 settembre 2011 Numero 159 La tassa È sospesa Durante la vigenza Dei provvedimenti Di sequestro E confisca E comunque Fino all'assegnazione O destinazione Degli stessi Salvo Che la tassa Non sia dovuta Ad altro soggetto Diverso dall'indagato Che possieda Occupi O detenga A qualsiasi titolo L'immobile Ok Se ci sono considerazioni Altrimenti passerei A votazione Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Emendamento numero 3 All'articolo 15 Aggiungere Il seguente Comma 4 I bed and breakfast Che svolgono attività Ricettiva A conduzione familiare In maniera occasionale E priva di carattere Imprenditoriale Come definiti Dalla legge regionale 7 agosto 2013 Numero 27 Sono equiparati Alle utenze domestiche Con nucleo familiare Composto da 6 o più familiari Nel periodo di apertura Dichiarato al SUAP Intero anno In caso di omessa Dichiarazione Numero componenti Risultanti Da anagrafe Nel periodo di chiusura Questa è la premessa Che ho fatto prima Quindi abbiamo spostato Le utenze I BNB A conduzione familiare Nelle utenze domestiche Con il nucleo familiare Che va Dalla anagrafe Quando è chiuso A 6 o più Quando è aperto O se omette Di dichiarare Ok Se ci sono altre considerazioni Altrimenti passerei a votazione Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Quarto emendamento All'articolo 16 Del regolamento Tari Aggiungere il seguente Comma 8 L'articolo 16 Sono gli occupanti E le utenze domestiche Non sono considerati I presenti Nel nucleo familiare Il o i componenti Lavoratori Dipendenti Delle forze Dell'ordine Obbligati a dimorare Fuori dal comune Di Morciano di Leuca La cui condizione Deve essere debitamente Documentata Con dichiarazione Rilasciata dal presidio militare E' uno di quelli Che vi accennavo prima Quindi chi ha L'obbligo Di non poter Risiedere A Morciano Ma da un'altra parte Pur tenendo la residenza A Morciano Consentiamo alla famiglia Di scaricare Quel componente familiare Se ci sono considerazioni Altrimenti passerei a votazione Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Quinto emendamento All'articolo 16 Del regolamento Tari Aggiungere il seguente Comma 9 Non sono considerati Presenti nel nucleo familiare Il o i componenti Che siano domiciliati Fuori sede O all'estero Per motivi di studio La cui condizione Sia debitamente documentata Con dichiarazione Dall'autorità di competenza Ovvero Con contratto Di locazione Non inferiore A mesi 9 Credo che sia Abbastanza chiaro Se ci sono altre considerazioni Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Sesto emendamento All'articolo 16 Del regolamento Tari Aggiungere il seguente Comma 10 Non sono considerati Presenti nel nucleo familiare Il o i componenti Che siano domiciliati Stabilmente Al di fuori Del comune di Morciano di Leuca Per motivi di lavoro La cui condizione Sia debitamente Documentata Con dichiarazione Rilasciata dal datore Di lavoro Nonché Con contratto Di locazione Non inferiore A mesi 9 Quindi questo Abbiamo fatto Le forze dell'ordine Poi gli studenti E adesso I lavoratori Se ci sono considerazioni Altrimenti passerei a votazione Chi è favorevole Chi si estiene Chi è contrario Settimo emendamento Articolo 18 Del regolamento Tari Classificazione delle utenze non domestiche Articolo 18 Comma 8 Del regolamento Tari Dopo le parole Nel caso di bed and breakfast Aggiungere Svolto in forma imprenditoriale Quindi per differenziare Da quella forma familiare Che abbiamo già emendato prima Se ci sono altre considerazioni Altrimenti passerei a votazione Chi è favorevole Chi si estiene Chi è contrario Nessuno Ottavo emendamento Alla lettera D Del comma 1 Dell'articolo 23 Del regolamento Tari Riduzioni tariffarie Sostituire con Riduzione Del 25% Della parte fissa e variabile Della tariffa Per i locali Diversi dalle abitazioni Ed aree scoperte Utilizzate per lo svolgimento Di attività stagionali Con durata massima Di 120 giorni O Ad uso Non continuativo Ma ricorrente Riduzione pari al 15% Per le attività stagionali Della durata massima Di 210 giorni Rientrano in questa fattispecie I contribuenti che occupano O detengono In anni consecutivi I medesimi locali Anche se l'occupazione Viene temporaneamente Sospesa Il contribuente È tenuto a dichiarare Annualmente In autocertificazione Il periodo di effettivo Svolgimento dell'attività Anche questo Era uno degli esempi Che avevo illustrato In premessa Probabilmente La riduzione più grande Che abbiamo introdotto A livello del nuovo regolamento Se ci sono considerazioni Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Emendamento numero 9 Al comma 2 Dell'articolo 23 Del regolamento Tari Al rigo 2 Le parole Per l'anno 2015 Sostituire con Per l'anno 2016 E dopo le parole 20 agosto 2015 Sostituire con Parole 20 giugno 2016 Per il discorso Che vi dicevo prima Anticipando l'approvazione Del regolamento E del ruolo Il ruolo verrà emesso prima Se ci sono altre considerazioni Altrimenti passerei la votazione Che è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Nessuno Emendamento numero 10 All'articolo 23 Sempre le riduzioni Da aggiungere i seguenti Comma 3 Il seguente comma 3 Le riduzioni di cui Al presente articolo Cessano di operare Alla data in cui Ne vengano meno Le condizioni di fruizione Anche in mancanza Della relativa Dichiarazione Quindi questo per dare un termine Alla dichiarazione Del diritto Alla riduzione Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Nessuno Undicesimo emendamento Articolo 27 Comma 1 Del regolamento Parliamo di riduzione Per la raccolta differenziata Compostaggio domestico Dopo le parole È prevista una riduzione Del Sostituire 20% Con 25% Questa è Una riduzione esistente Che è stata incrementata Nella parte di riduzione Nella parte variabile Questo per cercare Ancora una volta Di incentivare Il compostaggio domestico Che potrebbe essere Una di quelle leve Che ci potrebbe poi far Risparmiare qualche soldo A livello di ruolo Tari Se ci sono considerazioni Altrimenti passerei a votazione Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Dodicesimo emendamento Articolo 34 Comma 2 Del regolamento Tari Da sostituire con Il tributo Tari È riscosso Da parte del Comune Con scadenze E modalità Fissate Anno per anno Dal Consiglio Comunale Se guardate Il regolamento Dice in modo esplicito Del tributo Tari È riscosso Da parte del Comune In 4 rate Con scadenza 31 marzo 31 maggio 31 luglio E 30 settembre Siccome La data Diciamo di approvazione Varia anno per anno Inutile legarsi A delle scadenze Lo demandiamo Al Consiglio In modo da evitare Poi ogni anno Di ritornare In Commissione E in Consiglio E in Consiglio A emendare Un regolamento No 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 Lo facciamo dopo Lo facciamo dopo Cosa? No 13 Quelli che ho protocollato Io 13 Quelli in Commissione Quelli in Commissione Erano 11 Quelli protocollati Sono 13 Perché abbiamo tolto Questo passaggio Se no ogni anno Dobbiamo stare lì A emendare Quelli della Convocazione Della Commissione Erano 11 Poi rileggendo il regolamento Ci siamo accorti Che nel fissare le scadenze Erano fissate il regolamento Quindi abbiamo emendato Il regolamento Agli atti del Consiglio Erano 13 Se ci sono altre considerazioni Altrimenti passerei a votazione Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Nessuno 13esimo emendamento Articolo 34 Commi 3 e 4 Da eliminare Perché il 3 e il 4 Dicono Per il solo anno 2015 E quindi è già superato E il 4 dice È consentito il pagamento Un'unica soluzione Entro il 16 giugno Di ogni anno Per il 2015 Entro il 31 ottobre Con quella modifica Abbiamo portato Al primo al comma 2 In cui diciamo Che demandiamo al Consiglio Di fissare le scadenze In modalità Superiamo questi due commi Quindi li eliminiamo Se ci sono considerazioni Altrimenti passerei a votazione Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Nessuno Adesso mettiamo ai voti L'intero regolamento Chi è favorevole Chi si astiene L'intero regolamento Allora Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Punto numero 6 All'ordine del giorno Tari 2016 Approvazione tariffe Per l'anno 2016 E piano economico finanziario Partiamo dal piano Finanziario Il piano finanziario Ci è stato consegnato Dalla ditta Nella sua versione Il 29 febbraio 2016 Il nostro piano Il piano proposto Dalla ditta È stato passato Con un incarico Ad un Dottore Specialista Nel settore ambientale Perché lo verificasse E lo riformulasse Laddove dovesse trovare Delle discordanze Rispetto a Quanto scritto Dalla ditta E quanto riportato Nel contratto Stipulato Nel 2006 Dall'Unione Il nuovo piano Ci è pervenuto Settimana scorsa E ha ottenuto L'esito favorevole Dell'istruttoria Da parte Dell'ato Quindi l'organo Competente Che valida I piani finanziari Lo scorso 28 27 Aprile Quindi Gli abbiamo comunicato Il 26 E ci hanno dato L'ok Il 27 Tenete conto Che quest'anno Gli ato Regionali Sono tutti commissariati Dal Presidente Della Regione Che io mi auguro Ci metta le mani In modo pesante Da magistrato Più che da Presidente Della Regione Puglia Gli ha commissariati tutti Per cui L'esito favorevole Non ha richiesto La convocazione Delle assemblee Dei sindaci Come ha fatto Fino all'anno scorso Ma essendo commissariato Ci sarà Un decreto Del commissario Che validerà Questo piano Entrando Nel merito Del piano Diciamo che Quello che ha proposto La ditta Con quello che Ha rielaborato Il tecnico Incaricato Dallente Vede Una riduzione Tra i due Del 15,90% Circa Vuol dire Che una serie Di costi Che la ditta Aveva messo In chiaro O aveva Inserito Nel piano Il tecnico Incaricato Incrociando Le informazioni Che ha lui Lavorando Alla toga E da quello Che risulta Dal contratto Firmato Nel 2006 Ha rielaborato Il piano Arrivando a determinare Un costo Complessivo Per lente Del 15% Più basso Rispetto a quello Che ci aveva fatto Per venire La ditta Quindi quello Che noi oggi Portiamo Ad approvazione E sulla base Del quale Abbiamo elaborato Le tariffe Per il futuro Rolotari 2016 Non è Il piano Tariffario Presentato Dalla ditta Ma è Quello Rielaborato Dal dottore Zecca In supporto All'ufficio Tecnico Comunale Sono due documenti Ben diversi Questo è quello Della ditta A firma Chiaramente Della Gialplast Questo è il documento Redatto Dall'ufficio Tecnico Con le firme Dell'architetto Solo un attimo Così chiudo Allora Che cosa È emerso Da questo Lavoro Che rispetto All'anno scorso Noi avremo Un ruolo Complessivamente In termini assoluti Di importo Superiore Di 13.000 euro Cioè l'anno scorso Era 672.000 euro E qualcosa Quest'anno è 685.500 euro Da che cosa Viene determinato Questo aumento Fondamentalmente Da una sola voce Che è Il trasporto E smaltimento Della frazione Secca Indifferenziata Nell'anno 2016 Fine 2015 Inizio 2016 Sono intervenute Una serie di sentenze Che Ai noi Ha dato ragione Alle ditte Che pretendevano L'adeguamento Delle tariffe E non Al lato In rappresentanza Tutti i comuni Che chiedevano Di mantenere Un determinato Livello Di costo Tanto per darvi Dei numeri Il costo Del trasporto È passato Da 11 euro Tonnellata A 20 euro Tonnellata Mentre il costo Di smaltimento È passato Da 87 A 100 Quindi qui Praticamente Ballano 22 euro A tonnellata In più Se tenete conto Che Nell'anno 2015 Che è il dato di riferimento Per noi per approvare questo piano Rispetto al 2014 C'è stato anche Un aumento Dei rifiuti prodotti Perché c'è stata probabilmente Una maggiore affluenza Perché I due terzi Della Della spazzatura Del rifiuto Noi lo produciamo In quattro mesi e mezzo Cinque Da maggio A ottobre Da maggio A metà settembre A ottobre Questo ha determinato Questo aumento Dall'altra parte Si è determinato Anche un aumento Della base imponibile Cioè Rispetto ai metri quadrati Che andavano al ruolo Nel 2015 Quest'anno Ne vanno al ruolo Circa 12.000 metri quadrati In più Frutto del lavoro Di accertamenti Di rilevazioni Controlli Quindi sono entrate Nel ruolo Chiamiamole così Tra utenze domestiche Non domestiche Case o attività Per 12.000 metri quadrati Ora Questo diciamo È A livello numerico Quindi Un aumento secco Di 13.000 euro Determinato Pari pari A 13.000 euro E lo trovate In modo evidente Sul piano finanziario Alla pagina 15 Se avete modo Di fare il raffronto Tra i costi previsti Nel 2015 E quelli previsti Nel 2016 Ci sono I 13.000 euro Di differenza Cioè Stanno tutti lì Dopodiché Come ecotassa Che era un'altra componente Abbiamo preso L'impegno con la regione Di raggiungere L'obiettivo a giugno Quindi Di mantenere I 7.50 euro Perché se non dovessimo Centrare quell'obiettivo Nel ruolo Avremmo dovuto caricare Qualcosa come 9-10.000 euro Altri Abbiamo stabilito Di pagare In 4 mensilità Come negli ultimi anni Sempre Ma quest'anno Si partirà da luglio Quindi luglio Agosto Settembre Ottobre Sul costo Del piano Ha influito In modo importante La raccolta Degli ingombranti Anche questa È una voce Che salta all'occhio Se si fa un paragone Tra il 15 E il 16 Tenete conto Che quando fanno i piani Ragionano sempre Sull'anno precedente Qui noi siamo Uno dei comuni Che paga di più Probabilmente In rapporto Alla popolazione Siamo quelli che spende Di più Per la raccolta In ingombranti Che viene fatta Due volte al mese Dalla ditta Questi sono I costi Che hanno determinato Poi Il piano tariffario Che stiamo andando Ad approvare Quindi un piano tariffario Complessivo Di 685 mila euro Aggiungo Perché voglio Che sia chiaro A tutti Che Quello del Il mondo Della gestione Dei rifiuti In tutti i sensi È abbastanza Complicato E complesso Tanto per dare Delle informazioni Al consiglio E poi a chi ci vede Tenete presente Una cosa L'amministrazione comunale Da quando siamo insediati Sul tema Della spazzatura Chiamiamola così Oltre al ruolo tali Che deve bollettare Esattamente Per il servizio Che eroga Quindi Se spendo 100 Bolletto 100 Dal 2014 Ad oggi Il comune di Morciano Insieme a tutti gli altri Dell'Unione In un caso Del lato Nell'altro È stato condannato A pagare una serie di costi Legati a sentenze Che rivengono Da anni precedenti Quindi mancati adeguamenti Mancate attività Da svolgere Da parte dei comuni Barra Del lato Barra delle ditte Allora parliamo di 42.000 euro In cui siamo stati Condannati Nel 2014 Per la revisione Della tariffa Della discarica Di uggento Per gli anni 2012 2013 2014 Quindi noi Dobbiamo pagare 42.000 euro Fuori dalla Tari Da bilancio 14.000 euro All'anno Abbiamo pagato La prima rata Nel 14 La seconda Nel 15 La terza La pagheremo quest'anno E sono 42 Poi ne paghiamo Altri 80.000 Alla Monteco Per un mancato Adeguamento Per un problema Che c'è stato Negli anni 2001 2004 Abbiamo pagato La prima metà A settembre Dell'anno scorso E pagheremo Abbiamo già pagato La seconda metà Di 40.000 A marzo 2016 E questo Vi ripeto Non ricade Sulla Tari Quindi non arriva Nelle bollette Delle persone Perché non lo si può Imputare L'ultima sentenza Che è stata pronunciata Nel Consiglio di Stato Che ha dato Ancora una volta Ragione Ad una ditta In questo caso La ditta che gestisce Il progetto ambiente Lo smaltimento Del rifiuto secco Noi dovremo pagare Entro quest'anno 37.000 euro Altri Quindi Se fate due conti Parliamo di 160.000 euro Oltre Che il comune Sta pagando Da bilancio Dove I 42 Li abbiamo praticamente Pagati tutti Gli 80 Pure E 37 A breve Dovremo pagarli Questi sono Numeri Scusate Questi sono numeri Dopodiché L'unica leva Che abbiamo Io lo ripeto E Una delle poche leva Che abbiamo E il compostaggio Domestico Noi ad oggi Abbiamo 97 utenze Iscritte Facendo un calcolo Sono circa 270 Cittadini Di Morciano Che non dovrebbero Conferire L'umido Nell'indifferenziato Dovrebbe dar luogo Un risparmio Di circa 23-24 tonnellate All'anno E poca cosa Rispetto ai 1.300-1.400 Che produciamo Ma È un piccolo segno Ed ecco perché Poi lo incentiviamo Con la riduzione Però Se fate due conti 25 tonnellate A 120 euro A tonnellata Per smaltimento E trasporto Fanno 3.000 euro Circa Ripeto Poca cosa Ma Se anziché essere 97 Fossimo 500 Probabilmente Un impatto notevole Sulla riduzione Di smaltimento E costo Perché poi Lo trasportiamo E pagarlo A 20 euro Tonnellate Smaltirlo A 100 euro Tonnellate Quando potremo Tranquillamente Tenerlo in casa nostra O in qualche campagna Quello ha un impatto Sulla Sulla Tari A livello comunale Abbiamo chiesto Siamo uno dei primi comuni Ad averlo fatto Alla regione Di riconoscere Questo risultato Del compostaggio Domestico Facendolo Ricadere anche Nel calcolo Della Percentuale Di raccolta Differenziato Perché quello è differenziato E che non va Nell'indifferenziato La regione Si è detta disponibile A regionale Abbiamo mandato La seconda comunicazione Con l'elenco Dei compostatori E il modello Di compostiera E stiamo aspettando Che ci dica Sì No E se sì Quanto ci riconosce A persona Al giorno Perché la richiesta Che abbiamo avanzato È pari pari Quello della regione Veneto Ha già deliberato Cioè 250 grammi Al giorno A persona Ecco da dove nascono I 270 Persone Per 250 grammi Per 365 giorni Fa circa 23 24 tonnellate Allora Questo è il quadro generale Per quanto riguarda Il piano Per quanto riguarda Le tariffe Invece Che ne conseguono Perché Le tariffe Derivano Dall'importo Principale 685 mila euro E le riduzioni Le utenze Che abbiamo a ruolo E le riduzioni Che vogliamo applicare Che abbiamo applicato Con il regolamento Che abbiamo appena emendato La novità principale Rispetto all'anno scorso Sono due Abbiamo spostato Due punti Di carico Sulle utenze Domestiche Per mantenere L'equilibrio Esattamente come L'anno scorso Quindi Applicando Il 72 28 72 Sulle utenze Domestiche E 28 Sulle utenze Non domestiche Noi manteniamo Lo stesso bilanciamento Di costo Rispetto all'anno scorso Quando era 70-30 L'altra novità Importante Che avrà un impatto Sarà la riduzione Che abbiamo previsto Per utenze Non domestiche Che avranno diritto Al 15% Di sconto Se si autodichiarano Stagionali A grandi linee Queste sono Le cose Principali Che hanno poi Guidato L'amministrazione Alla determinazione Alla approvazione Del piano Tariffario E alla determinazione Delle tariffe Che trovate Riportate In delibera Prego Assolutamente Stasera Tutto quello Che ha a che fare Con le voci Di bilancio Va ad essere Deve essere No Luca Questo deve essere Verificato tutto Deve essere Verificato Scusa Deve essere anche Parlato alla gente Di questa cosa qua Questi fanno Il calcolo Lo fate voi Il 15% In meno E tutti gli anni Precedenti Allora quanto ci hanno rubato E quanto ci hanno rubato Allora No 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 Dal 2000 Scusa Così Cominci Dal 2000 Fino ad adesso Dal 2014 Ascolta Luca Dal 2014 È obbligatorio Datari Non facciamo di questa Scusami Luca È una cosa di corsa Per favore Perché non ce la facciamo a pagare La gente non ce la fa a pagare Qua devono essere Devono essere Più di tutto Almeno informati Dobbiamo parlarne Con calma Io non so perché C'è di queste cose Io sono con voi Quando c'è da risparmiare Ma questa è una cosa Che imponiamo noi Alla gente E non se ne rende neanche conto È vero Tutte queste cose Possono pure andare bene Ma la gente è fuori Dal controllo di questa cosa Compresi noi Non abbiamo manco il tempo Di studiarla Perché si deve scadere Sta cosa scade oggi Perché se noi non approviamo Le tariffe oggi Vorrà dire che restano Quelle dell'anno scorso E veniamo meno E veniamo meno A un adempimento di legge Che è quello di bollettare Alla Tari Il 100% del servizio E non si poteva pensare Questo C'è Emiliano Che ha commissariato la cosa Non si poteva chiedere Dieci giorni Aspetta un attimo Che dobbiamo vedere L'ho detto in premessa Questo è una cosa semplice Dobbiamo parlarci Pratico Chiedo scusa Allora La scadenza del 30 di aprile Non la fissa Né Emiliano Né nessun altro presidente Della regione È il ministero Che fissa i tempi Di approvazione del bilancio Dopodiché Se Lato Oga Si è riunito Il 27 Come prima seduta Potete andare a verificare Dai registri Non è che Questi sono i tempi Dopodiché In alcuni comuni Non sono neanche Andati in consiglio Perché avranno Avranno un problema domani Luca Il ministero Il ministero Sì Abbiamo fatto il referendum Sull'acqua Adesso la stanno privatizzando Il ministero Perché non ci rivolgiamo Direttamente alla regione Con Emiliano Si può parlare Ma Emiliano Non ha potere E chi l'ha detto Vediamo Verifichiamo Se noi ci mettiamo La scadenza così All'ultimo giorno Ma come facciamo Non possiamo avere Manco la possibilità Capito Allora Consigliere Poi domani Alla gente Veramente Luca tu lo sai benissimo Tu stai nel mondo del lavoro Qua non riusciamo a pagare Questo è un problema Che lo sappiamo Troviamo Troviamo un sistema Perché non c'è Perché le amministrazioni locali Su questa cosa Non si Non si mettono insieme Per la miseria Perché non ci ascoltano E fanno presente Perché non ci ascoltano E chi l'ha detto? Allora dove sta la forza? Secondo lei Non abbiamo provato A chiedere Ma dove sta la forza Allora scusa Se siamo qua 50-60-100 amministrazioni locali Non ci ascoltano Posso solo dirle Che a livello del ministero La proposta di rinviarlo a luglio Per le aree metropolitane L'hanno accolta Per i piccoli comuni Questo siamo purtroppo E dobbiamo fare i conti Con questo ministero No io non Sto purtroppo Guarda Ma no Ma no Qua deve cominciare il fatto Che dal basso Deve venire il cambiamento E che facciamo Dall'alto non viene Disobbediamo a un ordine di legge? Forse sì Facciamo disobbedienza civile Facciamo disobbedienza civile Mettiamoci tutti Se siamo d'accordo Facciamo disobbedienza Perché no? Tanto per essere chiari Se noi domani Se è necessario Ma non è detto che sia Però Assessore Però l'ultimo giorno Per far sta cosa Questo no Questa è una cosa centrale Scusa Non si fa così Questa è una cosa Da studiare Io posso prendere Non si può prendere l'ultimo Questa è una cosa grossa Le corse Le abbiamo fatte anche noi Per stare nei tempi Non è che non abbiamo Sciato a quato tempo E perso tempo Se le ho detto Che l'ok All'esito favorevole Del piano C'è arrivato il 27 Alla 1 di pomeriggio Cosa ne devo dire di più Se ne devo dire Che hanno chiesto il rinvio E non ci hanno neanche ascoltato Hanno preso solo Quelli del piano Non ci hanno neanche È solito Non è così Ci devono ascoltare Ma tutti i comuni Non ci hanno questo problema Luca L'ho capito Non è un problema De Morciano Questo Io non posso mettere A rischio la popolazione Perché se io non applico Questo No No La stiamo mettendo A rischio la popolazione Ma sono anni che Li spremiamo I stristiani Non riusciamo più Pagamo E non mettiamo A rischio la popolazione Come sarebbe a dire La mettiamo La mente Neide al rischio La popolazione Ma la faccia No Ce la mettiamo Ti diranno Ma noi mettiamoci La faccia E non mettiamo A rischio la popolazione Se dobbiamo trovare Un sistema Purtroppo è un cane Che si morde La cosa La responsabilità È nostra Ti diranno Che tu avevi Un obbligo di legge E che non hai rispettato Punto Allora le leggi Quando si cancione Mai si cancione Se non facciamo pressione Quando le cancione Allora come volano Le fanno E chiudiamo il discorso Nella legge Punto Vero è così Allora Scusate Io devo Devo andare Sono troppo in ritardo Comunque Io Per me Non sono d'accordo Di approvare una cosa Del genere Se non si discute Prima Mettetemi Sempre Contro Non si può fare L'ultimo giorno Sta cosa Prego Posso Io capisco Il fervore Del dottore Negro Ma quando abbiamo Approvato Il regolamento Che veniva Stabilito Che Le tariffe Venivano Determinate Dal piano Finanziario Dell'azienda Dove stava Il dottore Negro Come ha votato A che serve Gridare adesso Parliamo di Aria fritta Apprezzo I voli Pindarici Del sindaco Per giustificare Ma tanto I cittadini Quando le arrivano Le cartelle Di pagamento Le raffrontano Con quelle Dell'anno precedente E si trovano Sempre aumenti La realtà La realtà è Che Non si entra Nei costi Effettivi Ma in base Ai piani Delle esigenze Della Ditta Appaltatrice E poi Sindaco Il fatto Il fatto che Lei mi dice Ha fatto Il piano Finanziario E poi L'abbiamo Valutato Dall'esperto E l'ha ridotto Del 15% Questo è uno strumento Per dare Non a lei Soltanto Ma a tutti I sindaci A tutti I sindaci Uno strumento Per dire Che non L'abbiamo Accettato Ma la gravità Nostra Sta che Abbiamo Approvato Il regolamento In cui La ditta Determina I prezzi I costi Lì sta La responsabilità E non c'è Un solo Riferimento Uno solo Ai costi Di gestione Dell'anno precedente Ai costi Effettivi Sostenuti Perché la politica Molto spesso Opera In queste strutture E le ditte Lo sanno bene Attraverso Il clientelismo Tu non ti preoccupare Te ne agio assumere Uno Te l'assumo Ma queste Sulle condizioni Non sto parlando Questa è la realtà In cui stiamo Non ci vergogniamo E questi soldi Vengono In maniera Vergognosa Spalmati Sulla gente Rapinata La gente Ha voglia Fare sacrifici Lei mi parlava Del compostaggio È sempre Il piano Finanziario Dell'azienda Che determina Quei costi Perché se l'azienda Le presenterà All'anno venturo Un piano Di Cento milioni Sto parlando Delle cifre Così le sparo Lei Dal regolamento Che ha approvato Lei e la sua Maggioranza Lo deve Determinare Discuti il piano Ma poi Sempre il piano È E non i costi Effettivi O quanto Compostaggio È E quale si armonizzano Sandrino Capisco E tu Saresti dovuto Intervenire di più Perché hai le competenze Nell'ambito Della maggioranza Ed evitare Di far commettere Simili errori E simile gravità Perché abbiamo Reso Legale La rapina Che fa La ditta Appaltatrice Questo è di fatto Con quel regolamento Ecco perché Voteremo contro Sempre Abbiamo Reso Legale Legale La rapina Che fa Ai cittadini Di Morciano La ditta Appaltatrice Questa O altra Che sia Che poi Liato L'hanno commissariati Quelli andavano Fatto altro Non solo commissariati A mio modo di vedere Grazie Quindi esprimo Da parte mia Il voto contrario Chiedo scusa Ma ho un impegno A Lecce E devo Necessariamente Andare Se valido Il voto favorevole Del punto successivo Il mio sarà favorevole Non lo so Allora Prima Prima di chiedere E passare a votazione Io ci tengo A ribadire Quello che ho già detto Nel 2014 Nel 2015 Forse Non riesco Veramente a trasferire L'informazione Sono Due documenti Diversi Se la ditta Manda un piano Da 100 milioni di euro Noi lo riportiamo Ai 500 e 8 mila euro Che prevede il contratto Firmato nel 2006 Almeno per quest'anno Perché mi auguro Che finalmente L'Aro Chiuda la gara E dall'anno prossimo Ci sia Nuovo gestore Nuovo piano E tutto E via dicendo Ora Parlare di clientelismo Se si si frisce a noi Consigliere Renzo Lasci perdere completamente Perché Quello che abbiamo fatto noi Con la ditta della spazzatura Probabilmente non era stato mai fatto In questi anni In questo comune Perché Non le faccio Dire Che assumono questo Assumono quello Noi da quando siamo arrivati Il piano tariffario Quello che era il potenziamento estivo Che costava 3.800 euro Più IVA Mese Nel periodo invernale In tutti i modi Pedinandoli Lo abbiamo ridotto A 3.150 Poca cosa Per carità Ma intanto E l'abbiamo rideterminato noi Per regolamento Non noi Quello lì non ho provato Chi c'era prima di noi Ma fa niente Dopodiché Il regolamento Non stabilisce nulla Rispetto alla ditta Io sfido chiunque A leggere Noi non approviamo Il piano finanziario No Sì Del comune Certo Ma quello del comune Da dove è partito? Dal contratto Quello del comune Lei Anche l'anno scorso È partito Di una riduzione Di 50.000 euro E poi i cittadini Si sono avuti Un aumento Era più caro Degli anni precedenti Di che parliamo? Ma sono due concetti diversi Non sono concetti È lo stesso problema Perché se io avessi portato A bollettazione Il piano della ditta L'aumento Sarebbe stato ben superiore Certo In qualche modo Certo che l'ha ridotto È chiaro che l'ha ridotto La ditta L'ha presentato 100 Poi ha trovato L'accordo Per 80 No non trova l'accordo Forse non è chiaro Non si parte Dal piano della ditta Si parte Dall'accordo Che c'è Dal contratto Che c'è All'unione Forse non è chiaro Come viene determinato Quel corso È facilissimo C'è un'ati Che si chiama Ecotecnica E c'è Un'entità Che si chiama Unione Terra di Leco Il contratto È stato stipulato Dall'unione In rappresentanza Dei sette comuni E dall'ati Ecotecnica In rappresentanza Di quattro ditte Noi Il calcolo Che viene fatto E sta scritto Nel piano Rielaborato Paga Il 13,6% Posso anche Aggiungervi un'altra cosa Perché questa sarà In divenire Ma ve la posso dire Probabilmente Su sollecitazione Di questa amministrazione L'unione Si è accorta Che Morciano Probabilmente Ha pagato qualcosa Di più Di quello Che avrebbe dovuto pagare Ora Verifichiamo Siamo noi E siamo salve Probabilmente Quelli che all'interno Dell'unione Se dovevano dare 100 E qualcuno Che doveva dare 100 Probabilmente Adorno Non per Malafede Ma perché La ripartizione È stata fatta In un termine percentuale Che esulava Dalla Reale conferimento Siccome Ormai si calcola Tutto con Reale conferimento Perché Quando una tonnellata Di indifferenzato Costa 120 euro Per prenderla Da Morciano E per portarla Alla discarica Beh Ci guardiamo bene A quante sono le tonnellate Che ci appioppate Quanto paghiamo Allora questo è uno dei costi Poi Verso la ditta Come dice lei C'è tutta una serie Di attività Verso le ditte Per verificare Per verificare No Per verificare Se tutti quei costi Che negli anni Abbiamo pagato Fossero tutti Realmente Dovuti O meno E lo faremo Lo stiamo già facendo Come unione Questa volta Verificando Voce per voce Se era dovuta O se no E se era dovuta In che percentuale Andava ripartita All'interno dell'Unione Ai singoli comuni Quindi noi L'obiettivo di tutelare I cittadini L'ho detto prima Noi fuori dal piano 160.000 euro In tre anni Stiamo pagando Per problemi Legati a sentenze Sulla gestione Dei rifiuti Quindi L'ho detto prima Io mi auguro Uno Che Emiliano Ci metta le mani Non da presidente Ma da magistrato Colpiglio da magistrato Per vederci chiaro Perché a me Non piace approvare Un piano Che determina Qualche euro Perché di questo Stiamo parlando E poi lo vedrete Di aumento Al netto delle riduzioni Che abbiamo stabilito Al netto delle riduzioni Sui cittadini Io Se potessi applicare Un piano Da 300.000 euro Io ci farei un figurone Il problema è che I costi sono quelli Da contratto Non da piano Della ditta Ora Ogni anno Qua si ripete la stessa storia Approviamo il piano Della ditta Non è così C'è un piano Redatto Dall'ufficio tecnico Con le firme Sua E del dottore Zecca Che non parte da quello Ma parte dal contratto E poi determina Una percentuale E' chiaro che io vado a confrontare Cosa mi ha detto la ditta E cosa mi ha detto Il mio consulente A parità di servizio E' a parità di servizio L'ufficio tecnico nostro Lo fa in supporto Con un dottore Esperto Che lo fa In molti comuni E lavora anche Lei Io sono andato A prendermi Sindaco Le tabelle E dei conferimenti Che ha fatto Il comune Di Morciano Per quanto riguarda La differenziata Ci è voluto Due giorni Per capire I codici A che si riferiscono Ma di che parliamo Di aria fritta Parliamo Di valutazione Ma non per essere La colpa Al responsabile Dell'ufficio tecnico Perché in genere Si fa Il passacarte La ditta Li fornisce E io te li rigiro Li manda Alla regione Che la prova Ed è Vangelo No è così No è questa la realtà No non è così Questa sindaco Mi lasci dire Che non è così Poi che lei dice Io ho ottenuto Il contratto Viene fatta All'Unione dei Comuni Tutto fallato Unione dei Comuni Il cittadino Di Morciano E come Siamo d'accordo E siamo d'accordo Ma non ci va Il cittadino Di Morciano A discutere Queste cose Ci va il sindaco O la giunta Ma sulla base Dei contratti E la base Dei contratti E vuol dire Che stiamo sotto Capestro E rendiamo conto Alla gente Ma io non ho nessuna difficoltà A rendere conto Alla gente Le sto dicendo Che noi stiamo attuando Un piano Un piano Del 2006 Ecco perché Quando lei ha detto L'hanno commissariato Gliati Io ho detto Gliato Io ho detto Non andavano Solo commissariati Ma noi Sottostiamo E non ci muoviamo Approviamo Che cosa La coperta Che la togliamo Di uno All'altro La togliamo Dalla casa del privato A quella stagionale Ma la coperta La torta della ditta Non è intoccabile È intoccabile I poveri fessi Devono pagare Mi spiace Non è così Non è così semplicistica La situazione Non è così semplicistica Come lei vorrebbe farla passare Però Quando Se ci sono altre considerazioni Altrimenti passerei a votazione Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Per l'immediata eseguibilità Chi è favorevole Chi si astiene Chi è contrario Punto numero 7 All'ordine del giorno Adesione Alla costituente Società Gal Capo di Leuca Scarle Allora Siamo stati Contattati Dalla Siamo stati contattati Dal GAL Il nostro GAL Di riferimento È il GAL Capo di Leuca Il quale si è reso Promotore Di un'iniziativa Ovvero Quella di costituire Una società A consortire A responsabilità Limitata Questo è uno strumento Che il GAL Sta realizzando Di cui si sta dotando Per poter poi Intervenire Sulla misura 19 Della nuova programmazione A livello comunale Viene chiesto Di individuare In modo univoco Il GAL Di riferimento Quindi ogni comune Può partecipare Solo a un GAL E quindi ad una sola società E viene richiesto Un contributo Un atantum Come quota di adesione Di circa Di 95 euro Un atantum Alla costituzione È uno strumento Ripeto Che consente Al GAL Di partecipare E poi ai comuni Che fanno parte Di poter eventualmente Beneficiare Delle somme Che dovesse Essere in grado Di intercettare È una proposta Delibera Che è stata condivisa Sui 18 comuni E che noi abbiamo Ritenuto opportuno Portare subito Al Consiglio comunale C'era tempo Fondamentalmente Fino alla metà di maggio Ma essendo questa La prima occasione Ritenendolo Uno strumento Che a livello economico Impatta zero 95 euro Sul costo del bilancio E niente Ma è uno strumento Che ci potrebbe dare Delle opportunità Se ci sono altre Considerazioni Attivanti passerei A votazione Prego Sicuramente Noi come Comune di Morciano E come componenti Della nostra lista Manifestiamo Tutta la nostra Approvazione Anche perché Comunque il comune Già faceva parte Dei 18 comuni Del comprensorio Al quale Il GAL Capo Santa Maria di Leuca Fa riferimento Ma poi soprattutto Anche per un altro motivo Perché Dobbiamo Riuscire A continuare A vedere Il GAL Anche Diciamo Come un appendice Della regione Puglia Attraverso la quale Vengono poi pubblicati I bandi Di cui Lo stesso bando Della misura 19 E' stato pubblicato Diciamo Proprio pochi giorni fa Anche perché Esperienza In questo Lo teniamo Il supporto Del GAL C'è stato In occasione Dell'inaugurazione Dello IAT Il GAL Sicuramente Rappresenta Un ente Che Sebbene Sfruttato Tra virgolette Può veramente Rappresentare Una forma Di sviluppo Al netto Di quelli Che saranno I servizi Che nell'ambito Del GAL Verranno erogati Perché Appunto Nella misura 19 Si fa riferimento Ai servizi Diciamo Di formazione Informazione Pubblicità Per tutte Le aziende Agricole Martigiani Commerciali Per cui Non aderire Anche Diciamo Per La somma Irrisoria Sarebbe Come Perdere Una grande Diciamo Opportunità Sia come Comune E naturalmente Diciamo Come Territorio Diciamo Che l'adesione A questa Costituente Società Non porta O non potrà Portare benefici Solo all'ente Ma proprio Al territorio Quindi anche A chi vive A chi opera Sempre nella linea Che sulla nuova Programmazione 14-20 Di spingere Sul partenariato Pubblico Privato Il GAL Si è sempre Posto In questo Ruolo Adesso Per una serie Di vicissitudini Si rende Necessario Questo strumento E quindi Hanno Istituito Hanno Lanciato L'idea Di questa Società Consortire E noi Convintamente Vorremmo Aderire A questa Iniziativa Se ci sono Altre Considerazioni Altrimenti Passerei A votazione Chi è Favorevole Unanime Per l'immediata Eseguibilità Chi è Favorevole Unanime La Situo è chiusa Grazie a tutti